ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco shampoo sam e proteico a cosa serve shampoo sam e proteico a un parafarmaco appartenente alla categoria degli shampoo e commercializzato in italia dall'azienda savoma medicinali spa informazioni commerciali titolare savoma medicinali spa concessionario savoma medicinali spa categoria di appartenenza shampoo confezioni shampoo sam e proteico shampoo proteico 125 ml indicazioni per l'azione detergente delicata ma nello stesso tempo accurata risulta particolarmente indicato per il lavaggio anche quotidiano dei capelli normali o fragili dell'adulto e del bambino modalità d'uso applicare un piccolo quantitativo di prodotto sui capelli bagnati massaggiare il cuoio capelluto partendo dalla fronte risciacquare ed eventualmente ripetere l'operazione asciugare delicatamente il trattamento può essere eseguito due o più a volte la settimana descrizione e caratteristiche shampoo rinforzante per capelli normali o fragili non contiene coloranti componenti e ingredienti acqua sodium laureate sulfate peg 4 rapese ed amide glycerate 2 cocoate idrolizzate collagene glicine pegg 15 cocopoliamine lactic acid sodium deidrocetate linalool limonene sodium chloride parfum fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato